Diminuisce il numero dei positivi, i dati si riferiscono alla domenica di Pasqua e dunque i tamponi effettuati in quel giorno, sono 99 i positivi in tutta la provincia, 36 a Gela, 23 a Caltanissetta, il numero dei guariti supera quello dei nuovi contagiati, infatti i guariti sono 115. Per ciò che riguarda i ricoveri, 45 i ricoverati in malattie infettive, il numero resta stabile, 608 i pazienti positivi in quarantena domiciliare a Caltanissetta, 8 i ricoverati, 944 i positivi in quarantena domiciliare a Gela, 15 i ricoverati. Sono Villalba e Bonpensiere, il paese con il minor numero di positivi sono 6, sono due paesi molto piccoli. Ci sono comunque dei comuni che non hanno cittadini ricoverati, in ospedale sono Acquaviva, Bonpensiere, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro e poi ancora Sommatino, Sutera, Vallelunga e Villalba. Sono in tutto 2.987 i positivi in quarantena domiciliare in provincia.